Ho qualche domanda se l'ho messa a punto di vista, ma più o meno fate così, da sempre, però viene bene che non sono cose straordinarie, le fate con questa scaletta, non le ho mai sentite dire prima, è la prima volta in vita mia che sento raccontare su questi argomenti, con questa precisione, e spiegando perché. Mi fa piacere. Avete visto che con dei semplici passi poi alla fine si riesce a... è logico che però, ripeto ancora una volta, ci dovete mettere tanto del vostro, dovete prendere i tempi necessari per la messa a punto, perché ottenete due risultati, uno che mettete tanto appunto da, ma soprattutto che conoscete voi stessi e il vostro marco. Ma sono appunto voi stessi, perché capite cosa succede quando ci sono delle variazioni. E questa forse è la cosa più importante che succede durante la messa a punto, perché mettete appunto l'arco, ma mettete anche appunto voi stessi, la simbiosi è lì, non è solo la messa a punto dell'arco, è la messa a punto arco e arciere, è per quello che ci dovete mettere tanto del vostro. Non potete delegare, è indelegare, è assolutamente indelegare. Quindi per concludere, visto che non ci sono domande interessanti, poi ve lo rivedete nuovo tutto, per fare il capo delle domande nuovo, la messa a punto è sì, importante, ma voi lo siete. e quindi l'investimento è da fare sull'accesso. Però sapere che si può ottimizzare è indispensabile. Quindi la ricerca, la ricerca dell'ottimizzazione arco arciere deve essere continua. Non si è mai sempre uno stato di una ricerca. Una ricerca continua. Grazie. Grazie.